Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati sono gli afflitti, perché saranno consolati. Beati sono i miti, perché erediteranno la terra. Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Beati sono i pacifici, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati coloro che sono perseguitati per la giustizia, perché ad essi appartiene il regno dei cieli. Beati siete voi quando vi oltreggeranno e vi perseguiteranno e diranno ogni sorta di male contro di voi, mentendo per causa mia. Gioite ed esultate, perché il vostro premio sarà grande nei cieli. Sì, ma in che senso è una mappa? Se qualcuno desidera trovarmi, questi sono i gruppi in cui cercarmi.